Io gliel'ho detto, mi dispiace che succedano queste cose che non dovrebbero mai accadere. Sono 4 milioni e 250 mila, non 2 milioni e 250 mila. Scusi, ma che calcoli fa lei? Sono tre interventi. Due di seconda a 750 mila lire, uno di terza a 500 mila. No, caro professore, sono due di seconda e una di prima. Ma quale considera di prima? Scusa. Quello di questa donna, la contadina. Signorina Fabiani, ma che dice? Ma non si ricorda che il professore si è raccomandato tanto di chiudere un occhio per questa contadina? Sì, il professore dice, dice, ma poi se lo dimentica e se la prende con me. A parte la contadina, lei quale considera quella di terra? Quella della baronessa, no? Ma come? Se mi ha detto lei che la baronessa è piena di soldi. Sì, è piena di... Che fa lei, sorella? Lava i ferri, professore. E manca a pella a fregare, ma cammina. Ma che città è piena di soldi? È una laparotomia esplorativa, scusi. Esplorativa, esplorativa. Senta, professore, facciamo così. Consideriamo tutti e tre gli interventi di seconda, va bene? E consideriamo, se no ci confia veramente un dirigibile questo con tutto l'ossigeno che consuma. Venga di qua, va, signorina Fabiani. Va bene, facciamo questo calcolo, su. Dunque sono 750.000 per tre che fanno 2.250.000. Aspetta un momento, 750.000 per tre fanno 2.250.000, signorina. Sì, più la percentuale dell'equipe è il 55%. 55%? Sì. 5 per 0, 0, 5 per 0, 5 per 0, 5 per 25, 1.237.500, più 2.250.000. Sono 2.250.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0. Sono 3.487.500, esatto? Esatto. 3.480.000. 5, 0, 5 per 0, 0, 5 per 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 0, 6 per 0, 6 per 0, 7 per 0. Grazie. Accevi? Attacca, maestro. Biscoi. Grazie a tutti.